Nessuno più di me sa quanto è sterile e vana sia una passione, ma questo è stato finora il mio modo istintivo di afferrarmi a una persona, le sue cose come chi annega prende il collo dell'altro. Ho sempre più mirato più in là. La passione è sempre stata soltanto una condizione posta dal mio orgoglio, ma l'intento era un altro. È sempre stato amore storto, non assenza d'amore. Questa serata, diciamo che potremmo chiamare una bellissima coppia di scorde, forse, in realtà è nata da una proposta che veniva proprio dalla Fondazione Pavese, ma insomma è stato un grosso lavoro per me di creare un collage tra un testo che è Fuoco Grande, che è un esperimento, che è un libro a quattro mani, quindi scritto sia da Pavese, la parte maschile da Pavese e la parte femminile da Bianca Garufi, che nello stesso periodo loro intrattenevano un rapporto epistolare e sentimentale. Quindi, diciamo, l'idea che sia tagliato in maniera sartoriale è perché ci ho veramente lavorato con le forbici a comunque creare nell'epistolario anche un racconto, un movimento della loro storia che chiaramente non riusciremo mai a sapere profondamente, ma possiamo immaginare come fosse. Nello stesso tempo c'è anche il frutto di questo rapporto, quindi il libro e quindi Fuoco Grande, quindi è stato un po' complicato ma molto esaltante mettere insieme la parte intima, più intima, più personale, con il lavoro letterario e anche capire quanto poi, anche senza volerlo, di intimo va a finire tra le pagine di un libro. Quindi in questo caso è stato molto emozionante per me e l'ho pensato proprio come una partitura in cui vita e arte si fondevano. Non capivi, mi piaceva l'idea che come una musica che inizia, si trasforma, diventa un altro tema. Non capissi mai dove finisce la vita personale, dove inizia la letteratura. Il gioco delle lettere, soprattutto in questo caso, che il fatto che non sia solo una parte di romanzo, ma che ci sia anche uno scambio epistolare, ovviamente aiuta perché sono tanti registri e c'è un dialogo fra due persone, fra due anime, per cui è molto divertente e stimolante variare le sonorità per cercare di raccontare il lui e la lei di questa vicenda e la loro dinamica sia professionale che intima, che umana.